Oggi Despar ci porta a visitare l'Emilia. A Brescello, infatti, si producono delle zucche da leccarsi i baffi. Scopriamo insieme i segreti di queste prelibatezze. Sono Benelli Walter, responsabile commerciale di Agricola Don Camillo. Una realtà di produttori, nata nel 2005, in riva al Po, tra Brescello e Viadana. Produciamo meloni e zucche, anguri senza semi. Dal 2007 lavoriamo con Despar. Diciamo che Despar rappresenta oggi uno dei nostri primi clienti, per non dire primissimi. Produciamo tra Reggio Emilia, Parma e Mantova, che sono le zone più vocate per la zucca e il melone in Italia, dove c'è una storicità, una tipicità e un prodotto sicuramente di altissima qualità. Sicuramente dove c'è maggior utilizzo di zucca nei piatti locali, dove la zucca viene proposta in tantissimi modi e viene consumata sicuramente più che in qualsiasi altra regione italiana. Vuoi scoprire quanti tesori ci sono nei nostri supermercati? Continua a seguirci! Noi di Despar siamo sempre a caccia dei migliori produttori del nostro territorio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!